Se siamo prevedibili ci fanno fuori in tre secondi, quindi anche quando pensate di entrare in mercati internazionali, cosa dovrete fare per forza, se vogliamo veramente bene questo paese, bisogna farlo con lo stesso atteggiamento, bisogna rompere gli schemi, fare cose che sono totalmente prevedibili anche dalla concorrenza non vi darà niente, quindi azzardate molto.